È stata presentata nella sede della Camera di Commercio di Arezzo la 42esima Mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana, che si svolgerà dal 22 aprile al 1 maggio nel Centro Storico di Anghiari. L'evento vedrà come attori protagonisti 64 espositori, comprese mostre collaterali e botteghe permanenti, e l'affascinante Centro Storico di Anghiari, che come sempre farà da ineguagliabile cornice alla manifestazione. Tra le varie iniziative, quella promossa da Confartigianato Imprese Arezzo e da CNA Arezzo, che hanno istituito un premio rivolto alla promozione delle botteghe artigiane aderenti al progetto I Mestieri dell'arte fra Tevere e Arno. Quest'anno, alle aziende candidate al premio, è richiesto di realizzare un oggetto che, ispirandosi alle forme contenute nelle opere di Leonardo da Vinci, sappia coniugare la creatività artistica con le competenze e con le conoscenze delle tecniche artigiane legate ai mestieri dell'artigianato artistico. La mostra mercato della Valtiberina viene ospitata da Anghiari ormai dalla 42esima edizione, ma la mostra di fatto ha l'ambizione comunque di crescere ulteriormente, dunque di internazionalizzarsi in un contesto che è sì locale di tradizione, ma che guarda l'innovazione e la contaminazione col mondo esterno. È un'opportunità, primo perché la location è bellissima, secondo perché l'organizzazione è impeccabile, quindi i nostri artigiani possono veramente trovare lì l'occasione di mettersi e di far vedere quelle che sono le loro qualità.